Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, qualche giorno fa Asustore ha rilasciato la versione beta del nuovo sistema operativo che muove i suoi NAS, parlo dell'ADM 2.2 in versione beta. Andiamo dunque a scaricarlo, installarlo sul nostro Asustore AS202TE e vedere quali sono le novità più importanti e le nuove applicazioni in versione. Bene ragazzi, per prima cosa per scaricare il nuovo ADM o perlomeno la beta dell'ADM 2.2 andiamo sul sito di Asustore, quindi asustore.com e subito nella pagina principale potete vedere che c'è la pubblicità del nuovo ADM. Ci clicchiamo sopra, veniamo rendirizzata appunto a una pagina relativa all'ADM 2.2 beta dove ci sono tutte le varie novità che poi adesso vedremo insieme del sistema operativo nuovo di Asustore. e sul fondo, qua troviamo tutte le applicazioni beta nuove e i supporti eccetera eccetera, sul fondo c'è download ADM 2.2 beta. Voi cliccate, selezionate, vi scrivete con email, nome eccetera eccetera, scegliete la serie del vostro NAS Asustore e scaricate tutto quanto. Una volta effettuato il download, fate tramite l'ADM che avete già installato, l'upgrade del firmware, caricate manualmente l'immagine e il gioco è fatto. Una volta che avete fatto questo, possiamo, torniamo indietro, accedere al nostro NAS. Vedete che una volta effettuato l'aggiornamento vi apparirà in fase di login ADM 2.2 beta. Inseriamo le credenziali, accediamo e possiamo notare come la schermata iniziale sia praticamente identica a quella già presente nel 2.1 però nella parte bassa c'è un avviso ADM 2.2 beta, bugs and feedback, ovvero possiamo una volta cliccato sopra, cliccato sopra appunto questo link, riportare se riscontriamo qualche problema, il problema stesso ad Asustore tramite questo form, direttamente dal loro sito, questo è un aspetto che può essere utile per i tester o comunque in fase di sviluppo. Adesso andiamo a vedere velocemente quali sono le novità più importanti e quelle che ci sono anche scritte sul sito introdotte da Asustore. Tra le prime, tra le impostazioni, possiamo trovare in hardware la programmazione della modalità notturna, ovvero possiamo abilitare o disabilitare i LED di indicazione, cioè i LED che abbiamo di status, accensione, LAN, backup eccetera eccetera, per la modalità notturna appunto, quindi scegliere il giorno e l'ora per il quale far funzionare o non far funzionare i LED e poter dormire senza una luce che vi potrebbe dare fastidio. Tra un'altra funzione aggiunta è un supporto aggiuntivo all'UPS, nel senso un metodo aggiuntivo che oltre allo spegnimento fa entrare l'UPS in safe mode o comunque modalità protetta. Poi altre aggiunte sono il supporto di lingue nuove, come abbiamo visto anche, si può vedere direttamente dal sito Asustore, hanno introdotto il portoghese e il turco, tra le lingue supportate, cose che magari a voi italiani non interessa, ma c'è chi può interessare e la possibilità di effettuare degli utenti multilingue con un supporto pieno ai caratteri stranieri come il cirillico, il coreano, il cinese e il giapponese. Andiamo a vedere, tra le altre cose, entriamo nell'app central in primis e possiamo notare, questo qua è l'elenco delle app che ho installato io, possiamo vedere, a parte l'enormità delle app che in questo momento Asustore ci fornisce e praticamente ai livelli di Synology e QNAP sono veramente, veramente moltissime le app che possiamo installare. Andiamo in fondo e troviamo qua nel menu, nella colonna di sinistra, app beta, ovvero sono le applicazioni nuove, ancora in fase beta, ricordiamo che questa è tutta una beta, che si possono installare nel vostro Asustore e nel vostro NAS. Noi abbiamo installato il supporto Google Drive, abbiamo installato il Photogallery e il Mini DLNA. Andiamo a vederli, vabbè, il Mini DLNA ci permette la condivisione appunto tramite il protocollo DLNA di contenuti multimediali, ci fa scegliere il percorso di origine dei media e attraverso altre apparecchietture che supportano questo protocollo possiamo visualizzare direttamente in stream i contenuti multimediali. Altra funzione che possiamo vedere è quella di Google Drive, adesso io qua l'ho già impostato, però potete, cioè l'impostazione è molto veloce in realtà, una volta scaricato fate l'attach del vostro account di Google, del Google Drive, selezionate la cartella locale del NAS dove voler salvare e fare la sincronizzazione dei vostri documenti che ci sono sul vostro Google Drive e una volta fatto apri, vi aprirà il file explorer del vostro Asus Store e potrete vedere all'interno della cartella che avete scelto come cartella sincronizzata i documenti che avete anche dentro Drive, in questo caso io ho un video che ho fatto col mio gruppo in un locale e ce l'ho su Google Drive e me l'ha messo automaticamente anche sul NAS e questa è una funzione molto molto comoda ed estremamente utile. Un'altra funzione aggiuntiva che è stata introdotta appunto è il Photo Gallery in versione ovviamente sempre beta, ci apre un altro tab all'interno del nostro browser web e con questo Photo Gallery, appunto non è iniettato che una Photo Gallery, possiamo creare album di fotografie, possiamo condividere queste fotografie sui maggiori social network, possiamo ovviamente creare nuovi album eccetera eccetera. Io ho creato un album di fotografie che ho fatto un giorno con degli amici, siamo andati a vedere una gara di Downhill di Mountain Bike e ho scattato queste foto, ho creato questo album, è possibile una volta aperta una immagine è possibile appunto taggare persone e sotto vedete ci sono anche le icone per condividerle online, possiamo ovviamente scaricare l'immagine, eliminarla, mandarla tramite email a una persona che vogliamo oppure possiamo uscendo creare una presentazione e ovviamente ci fa automaticamente uno slide di tutte le immagini che abbiamo dentro l'album vedete che slide ha tutto quanto e appunto magari collegandolo attraverso l'HDMI eccetera eccetera a vedere questi contenuti. E niente, questo qui è appunto il Photo Gallery, è molto comodo devo dire, è studiato bene, non è nulla di esagerato ed è molto facile da utilizzare e da capire. Queste sono le novità più evidenti diciamo di questo... Bene, quelle che abbiamo visto erano le novità più importanti introdotte dall'ADM 2.2 in versione beta ricordiamo appunto che qui è ancora in fase di sviluppo, potete voi dare una mano alla società riportando qualche bug e il vostro feedback personale sull'utilizzo di questo ambiente di lavoro. Detto questo ci saranno sicuramente aggiornamenti da parte nostra nel momento in cui verrà rilasciata la release ufficiale facendo un nuovo video e quant'altro. Vi consiglio di iscrivervi al nostro canale di YouTube e alla nostra community, al nostro forum su extremehardware.com Detto questo da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware un saluto, ciao a tutti!